Il pianeta ci chiede aiuto. Ma le ricercatrici e ricercatori da sempre individuano soluzioni. Super Science Me, per il decimo anno e in occasione della Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori, ti aspetta nelle università e nei centri di ricerca della Basilicata e della Calabria. Fatti coinvolgere, venerdì 29 settembre, nelle attività di ricerca su clima, suoli, sostenibilità, salute e acqua, affinché anche tu possa diventare protagonista del cambiamento.